Super bonus e corsa per chiudere i cantieri entro il 31 dicembre. Per la fine dell'anno, infatti, dovranno essere completati i lavori perché dal 1 gennaio 2024 la percentuale di detrazione scenderà al 70%. Un grande problema per i condomini che hanno ancora diritto alla detrazione del 110%, avendo perfezionato la pratica e presentato la CILAS entro il 25 novembre dello scorso anno. Molti di questi cantieri, ha spiegato il presidente di CNA Costruzioni Marche, Marco Rossi, sono in ritardo e non riusciranno a completare i lavori entro la scadenza prevista. Marco, a che cosa sono dovuti questi ritardi? In prima istanza si può dire che sono stati dovuti alla forte domanda, quindi la difficoltà a reperire le materie prime e poi successivamente la manodopera. Ora direi che il problema più grosso è il sblocco dei crediti. Le imprese non hanno più liquidità e quindi hanno difficoltà a terminare i lavori, quindi a far fronte ai pagamenti. Noi sappiamo che quando c'è questa situazione si rallentano i lavori, se non addirittura si frenano, finché non si riacquista liquidità. A questo si aggiungono le continue modifiche normative del super bonus, una situazione complessiva che ha frenato soprattutto i privati e il settore dell'edilizia. Tanti e diversi i rischi e le preoccupazioni. Innanzitutto possiamo avere nella migliore delle ipotesi che le imprese riescono a terminare i lavori il prossimo anno e quindi l'aliquota del 110 passa al 70. Sappiamo benissimo che i condomini saranno costretti, saranno richiamati a versare la differenza. Guardando un po' il periodo in cui andiamo incontro, dove abbiamo un rialzo dei tassi, quindi chi ha un mutuo si troverà in forte difficoltà. Un pensionato che non pensava di dover tirare fuori tutti questi soldi, penso che si creeranno dei problemi enormi, con rischio anche di contenzioso tra impresa e condomini. Ma c'è anche un rischio a fallimento per le imprese? C'è un rischio a fallimento, soprattutto se poi le imprese non riescono a sbloccare i crediti. Qui si verifica l'ipotesi più estrema, più negativa, cioè che le imprese non riusciranno a concludere i lavori e quindi tutti i benefici che fino a quel momento sono stati maturati dovranno essere rifusi all'Agenzia delle Entrate. E quindi voi immaginatevi se dovrà essere fatto questo, in che condizioni si troveranno i condomini. Io penso che sia un disastro sociale. Nessuno è in grado di affrontare e ha la percezione di questo pericolo. Quali sono le vostre richieste? Allora, la nostra richiesta fondamentale è innanzitutto, diciamo, condizione necessaria, ma non sufficiente, quella della proroga, ovviamente. Ma perché questa proroga possa avere effetti, occorre chiaramente disincagliare i crediti, evitare il fallimento delle imprese e mettere in condizioni disastrose dal punto di vista finanziario anche i condomini.